La scuola di Setana sia pericoloso, però ha un rendimento sicuramente differente. Questa è la scelta che abbiamo fatto noi. Riusciamo a capire certo che c'è qualche problema. Cerchiamo di ovviarlo con tutta la volontà, la disponibilità che metterà questa amministrazione per far sì che queste criticità, se non vuoi sparite mate, lo ha fatto il dato di fatto. Scusate, si sente? Voi avete pensato così?